Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto proiettori Clarstein mini video. Mini proiettore LED con ingressi A2 VGA nero. Dimensioni quanto, il palmo di una mano, leggero e con vite di regolazione filettata e piedini di supporto. Alimentabile a 220 volt o 12 volt. Il Clarstein è un mini proiettore ultracompatto capace di riprodurre immagini fino a 152 centimetri di grandezza, con le sue dimensioni di soli 13 ottobre 7 ottobre 13 cm. In caso di necessità sarà possibile alimentare il sistema, anche concorrente a 12 volt. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.